Sono con me ragazzi Ci sono mandati qui e non sappiamo perché Ma dato che non siamo stupidi forse devi darci qualcosa Anche se non capisco perché non potevi darci nel cavolo di caffè Dai ci vediamo Siete accordo con me? Cavolo? Sì Io sono l'intermediario Sono una cameriera mezzanuta che consegna un barco di una persona anonima A un'altra persona anonima in cambio di valenza Ti vedo Tu sei un personaggio anonimo Vincent Qual è la combinazione? Non ne ho idea E come facciamo ad aprirla se non sappiamo la combinazione? Non ne ho idea Ah, non c'è bisogno della combinazione Grazie Miss Bunny, noi ce ne andiamo No, aspetta C'è qualcosa di diverso in te, finta bionda A parte le giorettiere, la scolatura vertiginosa e il trucco da meritrice d'alto bordo Sì Sì, a parte quelle cose È ora di andare Miss No Non manerato da